I rincari delle bollette di luce e gas del primo trimestre 2022 vengono alleggeriti per molti cittadini da alcuni bonus sociali grazie alle somme stanziate dal governo. Si prevedono infatti agevolazioni per gli utenti appartenenti alle fasce economiche più deboli o in gravi condizioni di salute e persino la possibilità di un piano di rateizzazione in alcuni casi specifici. Il bonus luce, il bonus gas e il bonus idrico consistono in uno sconto sulle bollette. Dal 1 gennaio 2021 non è più necessario fare la domanda in quanto l'accesso a tali bonus avviene in maniera automatica presentando la dichiarazione sostitutiva unica o DSU ai fini del rilascio di un'attestazione ISEE che rispetti i requisiti previsti. Nello specifico il valore ISEE non deve essere superiore a 8.265 euro. Per i nuclei familiari con 4 o più figli questo valore viene aumentato fino a 20.000 euro. I bonus aspettano inoltre le famiglie che percepiscono reddito o pensione di cittadinanza. Gli importi dei bonus variano in base al numero dei componenti del nucleo familiare e per quanto riguarda il gas anche all'aria climatica. Sempre riguardo al bonus gas, a chi ha una fornitura centralizzata verrà inviata una comunicazione in cui si chiederà di fornire il codice PDR del condominio. Il bonus luce per disagio fisico, per coloro i quali cioè devono utilizzare delle apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita, è necessario invece presentare la domanda. Per questi soggetti infatti non è variato nulla. Un ulteriore aiuto al cittadino in caso di difficoltà viene garantito anche dalle associazioni presenti sul territorio come Feder Consumatori, che con i suoi sportelli fornisce l'assistenza necessaria per il mancato ottenimento oppure avendo i requisiti del bonus, che è previsto dal governo e reso operativo dall'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente Arera, spiega il presidente di Feder Consumatori Caltanissetta, Michele Scarlata, per assicurare un risparmio sulla spesa dell'energia alle famiglie in condizioni di disagio economico e fisico. Nei casi in cui prosegue, pur in presenza dei presupposti di legge, il bonus non venisse correttamente erogato e da tempo istituito presso il sito istituzionale dell'Arera, un servizio online denominato Sportello per il consumatore energia e ambiente. Attraverso tale strumento aggiunge, possibile, allegando la documentazione idonea, ricevere assistenza a circa la mancata erogazione del bonus richiesto. Il servizio è attivabile, previa registrazione direttamente dal consumatore, che laddove invece riscontrasse difficoltà nella fruizione dello stesso, può sempre rivolgersi presso uno degli sportelli Feder Consumatori attivi sulla provincia, al fine di ricevere adeguata tutela e assistenza.